Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Nel vasto panorama della criminalità, un imperativo fondamentale è la protezione dei soggetti più vulnerabili e innocenti tra noi, come i bambini. Bisogna sottrarli ai pericoli che possono derivare dalle cattive intenzioni di uno sconosciuto o talvolta anche dai membri della sua stessa famiglia. Karen Matthews nasce nel 1975 a Dewsbury, che si trova nella contea dello Yorkshire occidentale, nel nord dell'Inghilterra. Non si sa molto della sua infanzia. Karen ha una sorella e quando è appena sedicenne va via di casa seguito di un burrascoso litigio con la madre June e il padre Gordon. Tutti descrivono i genitori di Karen come brave persone, sempre intenzionati a crescerla al meglio, ma d'ora in poi lei resterà lontana da loro per parecchi anni. Tuttavia questo non è l'unico problema di Karen, perché lei era stato diagnosticato un disturbo dell'apprendimento. È una ragazzina emotivamente vulnerabile che si può manipolare con facilità. Karen, per la maggior parte della vita, vive a Dewsbury. All'età dei 17 anni mette già al mondo il suo primo figlio, poi ne avrà altri sei concepiti con cinque padri diversi. L'ultimo figlio nasce quando Karen ha circa 30 anni. La protagonista di questo caso è la terza dei figli di Karen, Shannon Matthews. Shannon nasce il 9 settembre 1998, quando Karen ha 23 anni e il padre della bimba si chiama Leon Rose. Dopo circa tre anni di relazione nel 2001, la coppia si lascia e Leon decide di trasferirsi a circa 10 miglia di distanza nella città di Huddersfield. I fratelli nati prima di Shannon si trasferiscono dai rispettivi padri, mentre lei resta a vivere con la madre. Ciò nonostante, la bambina mantiene un buon rapporto con il papà. Arriviamo al 2003. Karen, la madre di Shannon, ora ha 28 anni. Con lei vivono tre dei suoi figli, altri tre crescono con i padri, mentre l'ultimo non è ancora nato. Karen decide di trasferirsi nell'area di Moorside Road, sempre a Dewsbury, e la casa in cui va ad abitare è una proprietà comunale che le viene fornita in virtù del suo basso reddito. La zona però è una delle più povere del Regno Unito, dove si registrano alti livelli di disoccupazione legati alla chiusura di tutte le fabbriche. Ma, di fronte a queste difficoltà, la comunità si è compattata diventando davvero molto unita. La casa di Karen è un porto di mare, sempre piena di gente che entra ed esce da lì. Il vicinato si riunisce spesso da lei, dunque una marea di bambini gioca e corre dentro l'abitazione o nel piccolo giardino. In questo contesto si colloca l'incontro tra Karen e Craig Meehan, un 19enne che vive in zona e che ogni tanto si reca a casa sua, dove passano il tempo, guardando alla televisione. Craig quindi ha dieci anni in meno di Karen e lavora in un supermercato. I due ben presto iniziano a frequentarsi e condividono una relazione molto intensa. Infatti, nel giro di tre settimane, Craig si trasferisce direttamente a casa di Karen. Poco dopo, lei rimane incinta del suo settimo figlio. Tutti sono quindi convinti che il bambino sia il figlio biologico di Craig e tuttavia si scoprirà che non è così. La vera identità del papà, del piccolo, non si scoprirà mai. C'è un motivo piuttosto scaltro che esorta Karen a mettere al mondo così tanti figli. Cioè, ottenere più soldi possibili grazie ai sussidi concessi dal governo. Karen arriva a beneficiare di 300 sterline ogni settimana. Gli assegni familiari sono la sua principale fonte di reddito perché lei non lavora e passa le giornate davanti alla televisione o ai videogiochi. Dunque, se avete pensato, certo che non lavora, ha molti bambini di cui prendersi cura, ora sapete che non è così. Karen trascura i suoi figli. Infatti, le condizioni di vita dell'ambiente domestico sono davvero pessime. Tanto che i bimbi vengono inseriti nel registro dei soggetti a rischio. Di conseguenza, Karen dovrebbe essere costantemente monitorata. Ma non avviene così. Se ci fossero stati adeguati controlli da parte delle autorità competenti, questo caso nemmeno esisterebbe. Ad ogni modo, quando il comune scopre delle mancanze di Karen in veste di genitore, viene organizzato un incontro per esaminare meglio la situazione. Coloro che si occupano dell'ispezione constatano che i bambini non mangiano pasti adeguati. Si cibano infatti di dolci, cioccolato e patatine. Inoltre, non vengono portati a scuola né a fare visite mediche. Tutto questo chiaramente è inaccettabile, quindi registrare i minori come soggetti a rischio è necessario. Più avanti emergerà una particolare prova delle condizioni pietose in cui vivono i bambini. Viene infatti trovato un bigliettino scritto con una calligrafia che risulta appartenere a Shannon, in cui lei domanda a uno dei suoi fratelli, pensi che stasera mangeremo qualcosa per cena? Ma non è finita qui, perché Karen non compra mai nemmeno i più indispensabili articoli sanitari per i piccoli, come ad esempio i pannolini. Di solito usa dei sacchetti di plastica e del nastro adesivo per assolvere alla medesima funzione. Eppure il comune le dà supporto economico proprio per permetterle di accudire dignitosamente i suoi figli e di rendere vivibile l'ambiente domestico. Ma Karen considera quei soldi suoi e li spende solo per se stessa. Compra sigarette, alcol e pizze, che però mangia solo lei. La piccola Shannon, come accadrebbe a chiunque, odia vivere in queste condizioni, così lei e la madre, Karen, litigano costantemente. Shannon ribadisce che vorrebbe vivere con il papà e scrive questo desiderio persino sulle mura della sua camera da letto, sotto la carta da parati, che si è ormai staccata. Si legge, infatti, voglio vivere con mio padre. Tuttavia Karen non intende permetterglielo, altrimenti si ridurrebbe l'importo del suo assegno settimanale. Anzi, col tempo impedisce a Shannon di avere contatti con Leon, dato che lui smette di pagare il mantenimento. La vita di Shannon in quella casa è infelice, ma anche la sua vita scolastica è particolarmente complicata, perché Shannon fa fatica a stare al passo con le lezioni, non riesce proprio a concentrarsi. Come se non bastasse i compagni di classe la prendono in giro, dicendo che non ha un buon odore, che è sporca. Del resto Karen non fa mai una doccia a sua figlia Shannon e la manda sempre a scuola con gli stessi vestiti, senza preoccuparsi di lavarli. Quindi la povera bambina deve pure combattere i bulletti che la importunano. Il 19 febbraio del 2008, in quello che sembra un giorno comune, Shannon, a soli 9 anni, scompare. La mattina si reca a scuola, ma nonostante le solite rogne, è più felice del solito, perché più tardi deve andare a lezione di nuoto. Lo scuolabus la porta al centro sportivo e poi va a riprenderla. Infatti intorno alle 15.10 la bambina viene vista scendere dal furgoncino. Come sempre deve poi percorrere un tratto a piedi da sola per arrivare fino a casa e abitualmente rientra verso le 15.30. Tuttavia il 19 febbraio Shannon non tornerà mai. A quell'ora sia Karen che Craig sono all'interno dell'abitazione. Lui si è preso un giorno libero perché non si sente molto bene. Mentre Karen non nota il ritardo di Shannon, Craig si rende conto che sono ormai le 16 e glielo fa presente. Allora Karen va dai vicini e chiede loro se abbiano visto sua figlia, ma nessuno l'ha notata. Di conseguenza Karen chiama la scuola frequentata da Shannon per avere notizie e le viene detto che la bambina è scesa dallo scuolabus come ogni giorno e si è avviata verso casa. Karen continua a contattare tutti quelli che conosce chiedendo informazioni, ma non ci sono sviluppi. Siccome Shannon sembra davvero sparita nel nulla, alle 18.48 Karen chiama la polizia. Sono già passate tre ore da quando l'assenza della bambina è stata percepita da sua madre e la polizia accorre a casa di Karen. Gli agenti sanno che bisogna agire in fretta perché le prime 24 ore successive alla scomparsa di un bambino sono cruciali. La polizia rivolge ai familiari della piccola le domande da protocollo, cioè Quando avete visto Shannon per l'ultima volta? Qual era il suo umore? È mai scappata prima d'ora? Si è verificato qualche litigio tra voi? Karen dice che non sa spiegarsi l'assenza della figlia, ma che la bambina, secondo lei, non aveva alcun motivo di scappare. L'ha vista l'ultima volta quella mattina mentre era seduta a tavola a fare colazione. Poi l'ha salutata. Shannon è uscita ed è andata a scuola. Mentre Karen parla alla polizia, alcuni agenti si voltano per osservare il tavolo da pranzo e notano che è pieno di roba ammassata. Sembra impensabile che qualcuno l'abbia usato per fare colazione qualche ora prima. In realtà in tutta la casa c'è un evidente disordine. Comunque la mattina successiva non c'è ancora traccia di Shannon. Ormai in tutta la comunità si è diffusa la notizia della sua scomparsa. È a questo punto che un'amica di Karen, di nome Julie Bushby, organizza una grande campagna di ricerca per trovare Shannon. Julie è la presidentessa dell'Associazione degli Inquilini della tenuta di Moorside. È una donna coinvolta in vari ambiti della comunità, dunque conosce molte persone. Julie dà un aiuto prezioso alla sua amica Karen, distribuisce ovunque volantini e recluta tanti volontari che si uniscono alla ricerca di Shannon. Intanto anche la polizia sta compiendo un enorme sforzo. La portata delle indagini è immensa, infatti coinvolge più di 200 agenti e 60 investigatori, che corrispondono al 10% della forza operativa della polizia del West Yorkshire. Vengono effettuate 3.000 perquisizioni tra case e negozie e fermati 1.500 automobilisti nel tentativo di ottenere indizi sulla scomparsa della bambina. La polizia indaga anche su ogni singolo pedo della zona. Risultano ben 1.387 autori di reati intimi registrati, che si collocano nel raggio di 20 miglia dalla casa di Shannon. E anche le loro abitazioni vengono perquisite, come giusto che sia. Entro poco tempo la vicenda di Shannon ottiene molta attenzione da parte dei media. Alcuni giornali, come il The Sun, cominciano a offrire delle ricompense in denaro a chiunque fornisca delle informazioni sulla bambina. Tuttavia buona parte dell'opinione pubblica sostiene che Shannon non stia ricevendo la stessa attenzione mediatica rivolta a Madeleine McCann, una bambina inglese di tre anni scomparsa circa un anno prima in Portogallo, che non verrà mai ritrovata. La gente dice che questo sta accadendo perché Shannon proviene da un ambiente più povero, perché i suoi genitori non sono illustri dottori, come quelli di Madeleine. La stessa Karen si paragona alla mamma della bambina, Kate McCann, sentendosi in competizione con lei. Cerca di attirare l'attenzione della povera mamma, già addolorata per la sua perdita, lasciando emergere questa insensata rivalità. Ancora una volta Karen brama di essere al centro degli interessi altrui, mentre la vera emergenza è capire cosa sia successo a Shannon. Nel frattempo la polizia continua a interrogare i parenti e gli amichetti di Shannon e ovviamente nota il comportamento di sua madre Karen, che è decisamente strano. Sì, certo, ognuno reagisce ai drammi a modo proprio. Non esiste un concetto del giusto in questo ambito, ma Karen appare davvero bizzarra perché ride e scherza sempre. Cercare di pensare in positivo davanti a tragedie come questa forse aiuta. Tuttavia l'umore di Karen è instabile, infatti mute improvvisamente da un estremo all'altro. Davanti alle telecamere che la riprendono, Karen cambia stato d'animo e si dimostra subito angosciata e triste. Poi, ogni volta che il telegiornale menziona il caso della figlia e la foto della bambina appare in tv, Karen indica lo schermo dicendo «Oh, guardate, Shannon è diventata una star, è famosa!». Come vi ho detto intanto, l'intera comunità sta vicino a Karen, supportandola in diversi modi. Ad esempio, il gestore di un negozio di patatine le regala dei prodotti abbastanza spesso. In una delle tante occasioni in cui Karen va da lui a fare rifornimento gratuito, ringrazia l'uomo dicendogli «Oh, dovrò far sparire uno dei miei figli più spesso!». Un altro episodio sconcertante si verifica a casa di Karen quando il telefono di un poliziotto lì presente comincia a squillare. Allora Karen salta in piedi e si mette a ballare seguendo il ritmo della suoneria. La BBC, tra l'altro, ha mandato in onda un docufilm che approfondisce il caso di Karen e di sua figlia Shannon e tutte queste scene sono state ricostruite in modo piuttosto accurato. A tal proposito vi faccio vedere una clip. Che stai guardando a me così? Ciao! La domanda che mi sorge spontanea è quale genitore si metterebbe a ballare ascoltando la suoneria di un cellulare mentre la propria figlia è scomparsa da due settimane? La polizia ormai pensa che sia impossibile ritrovare Shannon viva e anche l'interesse del pubblico inizia a scemare perché la bambina non appare più così spesso nei telegiornali. Tuttavia Julie, l'attivissima amica di Karen, non si arrende, è determinata a ritrovare la piccola. Al contrario, alcuni amici di Karen diventano sospettosi proprio nei confronti della madre della bambina. Ad esempio Natalie, la vicina di Karen, la pensa proprio come la polizia. La donna si comporta in modo davvero strano. Natalie conosce bene Karen, quindi secondo me la sua opinione conta molto. Natalie si accorge che quando le telecamere non la riprendono Karen non sembra nemmeno lontanamente avvilita per la scomparsa di sua figlia. Nonostante anche altre persone sospettino di Karen, nessuno l'accusa davvero di qualcosa. Soltanto Natalie è piuttosto esplicita nel sostenere che l'amica non pare preoccupata per le sorti della figlioletta Shannon. Questa situazione scatena una certa tensione tra Natalie, Karen e tutta la comunità. Karen vuole trovare un modo per riportare l'attenzione sul caso di sua figlia. Sceglie così di tenere una conferenza stampa dove lancia un appello pubblico chiedendo a chiunque abbia delle informazioni di farsi avanti. In questa occasione, quindi in televisione, è lei stessa che rivela dei sospetti mai espressi prima a nessuno. Dice al pubblico che Shannon, secondo lei, è stata rapita da qualcuno che conosce. La polizia ovviamente resta sbigottita perché Karen non ne ha mai parlato con gli investigatori? Di certo avrebbe agevolato il loro lavoro d'indagine se lo avesse fatto. I detective avrebbero potuto concentrarsi su dei soggetti in particolare. Durante questa conferenza stampa, Karen tiene in mano il peluche di un orsacchiotto esattamente come aveva fatto Kate McCann, la mamma di Madeline. Gli spettatori lo notano e reagiscono dicendo che è evidente, Karen sta imitando Kate. Karen fa intendere che quello sia il pupazzo preferito di Shannon, ma anche in questo caso c'è qualcosa di sconcertante da considerare. Prima della conferenza stampa, infatti, Natalie ha visto Karen incamminarsi con il peluche in mano e le ha detto, oh, quello era l'orsacchiotto di Shannon. Al che Karen aveva risposto, non so nemmeno se questo orsacchiotto sia suo. Vi ricordo che la donna in casa ha altri quattro figli. Più tardi, quando uno dei reporter chiede a Karen qual è il nome dell'orsacchiotto, lei risponde, oh, non lo so, è una sciocchezza. E poi, si chiama Teddy, tutto qui. Ancora dopo, precisa che l'orsacchiotto in realtà si chiama Con Amore Teddy, perché addosso una maglietta con scritto Con Amore. Insomma, queste incertezze sorprendono perché si sa che i bambini tendono a dare dei nomi ai propri peluche preferiti. Nonostante ciò, molte persone credono ancora al dolore di Karen Matthews e continuano a confrontarla con Kate McCann. La ritengono più credibile semplicemente per il suo aspetto, perché indossa abiti più larghi mentre Kate veste i capi aderenti. E mi domando, perché una donna deve essere sempre giudicata in base al suo abbigliamento? Comunque, dopo la conferenza stampa, Karen continua ad agire in modo sospetto. Secondo molte persone che le stanno accanto, lei ama nutrirsi di tutta l'attenzione che sta ricevendo. Adora posizionarsi davanti alle telecamere, anche quando la polizia le sconsiglia di farlo, perché vuole prima controllare le informazioni che hanno raccolto i media. Gli investigatori si augurano che non trapieli nessun dettaglio, che, una volta di dominio pubblico, possa arriccare danno alle indagini. Una settimana dopo la conferenza stampa, Shannon è ormai scomparsa da tre settimane e il giornale The Sun aumenta la ricompensa prevista a 50.000 sterline. Karen è il settimo cielo, ma non perché spera che questa somma di denaro possa incentivare qualcuno a fornire dei dettagli sulla scomparsa di sua figlia. Assolutamente no. La sua felicità dipende ancora dall'attenzione che sta ricevendo, presa da questa smania di gareggiare contro i McCann. Karen si mette anche d'accordo con i produttori di una trasmissione televisiva per essere filmata in casa propria durante le ricerche. Il risultato è qualcosa che lascia perplessi perché sembra di assistere a un reality show. Infatti la troupe riprende costantemente Karen durante tutte le ore del giorno. Dato che, durante la conferenza stampa, Karen aveva rivelato di sospettare che Shannon fosse stata rapita da qualcuno che la conosceva, la polizia rafforza ulteriormente le indagini e finalmente si riesce a ottenere una svolta. I detective ricevono una soffiata su qualcuno della famiglia di Craig, suo zio. L'uomo è scomparso dal radar delle forze dell'ordine da quando Shannon è sparita. Nessuno lo ha più sentito visto e questa circostanza, secondo la polizia, non può che essere sospetta perché nessuno ha mai menzionato questo zio. La polizia interroga Karen a riguardo, lei dice che non ha idea di chi sia lo zio in questione. Ma mente. Non solo lo conosce, ma ha con lui anche una certa confidenza. Infatti, come riferiscono alcuni testimoni, durante un evento in famiglia, Karen sedeva proprio sulle ginocchia di quest'uomo, tanto che alcuni parenti avevano avuto da ridire sulla loro strana familiarità. La polizia indaga sul misterioso zio, il cui nome è Michael Donovan. Anche lui è nato a Deesbury e ha sempre vissuto lì. Il suo nome originale era Paul Drake, ma l'aveva cambiato legalmente in Michael Donovan in onore di uno dei suoi conduttori preferiti, che presentava un programma televisivo di fantascienza. Come Karen, anche Michael ha difficoltà d'apprendimento e la polizia scopre pure che ha diversi precedenti penali. Infatti, era stato condannato per taccheggio e incendio doloso. Michael, in passato, aveva avuto anche problemi con le sostanze e le figlie con cui aveva vissuto per un periodo gli erano state portate via e messe in custodia. Aspetto ancora più allarmante è che Michael era stato accusato di rapimento di minori perché era andato a prendere una delle figlie a scuola nonostante gli fosse stato proibito. Il tribunale aveva emesso un ordine che gli vietava di avere contatti con la bambina, tuttavia era andato a prenderla e l'aveva portata in un hotel sotto falso nome. Tre giorni dopo, la polizia li aveva trovati. A fronte di queste scoperte, gli investigatori sospettano che possa essere lui il responsabile della scomparsa di Shannon. Gli agenti bussano alla porta di casa di Michael, ma lui non apre. Non c'è tempo da perdere, potrebbe essere già troppo tardi, quindi i poliziotti decidono di sfondare la porta. Una volta dentro l'appartamento notano che versa in un pessimo stato, ci sono ovunque disordine e sporcizia, mentre di Michael non c'è traccia. La polizia inizia a perquisire l'appartamento, entra in una camera da letto e avverte un lieve rumore provenire da sotto a un letto a castello, dal quale spunta una ragazzina. Ed è proprio lei, è la piccola Shannon. Fortunatamente la polizia è riuscita a trovarla ancora viva. Un agente le chiede, dov'è Michael, l'uomo che vive in questa casa? Allora Shannon indica il letto e risponde, è lì sotto. Un poliziotto guarda meglio e ne ha la conferma, anche Michael si nasconde sotto il letto, però un altro letto, non lo stesso in cui si nascondeva anche Shannon. L'agente gli ordina di venire fuori, ma lui si rifiuta. Alcuni poliziotti supportano il collega e insieme riescono ad acciuffare Michael con la forza. Dopo avergli urlato contro vari insulti e dopo avergli assestato qualche calcio, gli agenti arrestano il rapitore e lo portano alla stazione di polizia per interrogarlo. Sono trascorsi 24 giorni dal pomeriggio in cui la bimba era scomparsa. Shannon Matthews viene finalmente recuperata e condotta pure lei alla stazione di polizia. Anche Karen viene scortata fin qui, una volta informata della grande novità. Tuttavia riesce a vedere sua figlia soltanto attraverso un divisorio. Siccome le indagini sono ancora in corso, non le è permesso di stare nella stessa stanza in cui si trova Shannon. Karen, quando la vede, sembra non provare alcuna emozione, come se non stesse guardando sua figlia scomparsa da ben 24 giorni. Agisce come se non volesse riconoscere Kelly e la polizia trova assurdo che non faccia nemmeno delle domande. Karen non chiede ai detective dove abbiano trovato la bambina e se sia ferita. Michael Donovan intanto sta sostenendo l'interrogatorio e rivela alla polizia che non è lui quello che ha scogitato questo piano per rapire Shannon. Ma è stata proprio Karen, sua madre. I detective lo riferiscono alla donna, ma lei nega categoricamente di essere la mente dietro questo piano. La polizia a dirla tutto ormai sospetta di lei ampiamente, ma non ha ancora delle prove concrete sul suo coinvolgimento, quindi deve rilasciarla. Nel frattempo la comunità viene a sapere che Shannon è stata ritrovata e inizia a festeggiare. Nel cielo splendono i fuochi d'artificio, la gente cammina per le strade esultando, sono tutti così tanto felici. Al contrario di Karen. A pochi giorni dal ritrovamento di Shannon, la comunità rincomincia a essere sospettosa, si chiede perché la bambina non sia ancora tornata a casa e perché la polizia continui a prelevare Karen e a interrogarla alla stazione di polizia. Proprio riguardo a Karen, chi la frequenta nota che ora sembra più triste rispetto al periodo in cui sua figlia era scomparsa. Gli amiche, Julie e Natalie, non possono che dubitare di lei, temendo che fosse coinvolta nel rapimento della figlia in qualche modo. Poi anche Craig, il ragazzo di Karen, viene arrestato. Il suo computer era stato sequestrato insieme a molti altri oggetti quando la casa di Karen era stata perquisita. E sul suo PC, la polizia ha trovato delle immagini indecenti di minori. Ben presto la notizia si diffonde nella comunità e questo alimenta il sospetto che Karen e Craig siano entrambi coinvolti nel rapimento di Shannon. Dopo l'arresto di Craig, Julie e Natalie sono sempre più decise a voler scoprire la verità. Soprattutto Julie, che aveva organizzato e guidato le ricerche di Shannon, ora si sente tradita. La polizia intanto continua a fare pressione su Karen, tanto che lei a un certo punto crolla e confessa. Ammette che è vero, era coinvolta nel rapimento di sua figlia fin dall'inizio. Karen quindi viene arrestata e accusata di abbandono di bambini e di aver ostacolato il corso della giustizia. Ora che la polizia è riuscito a fermare sia Michael che Karen, deve ricostruire tutta la vicenda. Cos'è realmente accaduto? Michael spiega che poco dopo quell'evento in famiglia dove Karen era stata vista seduta in braccio a lui, la donna gli aveva chiesto di parlare in privato. aveva rivelato la sua intenzione di escogitare un piano che avrebbe portato dei guadagni a entrambi. Dovevano rapire uno dei suoi figli. Il piano originale consisteva in questo, nascondere la bambina, denunciare la sua scomparsa, continuare a nasconderla fino a quando la ricompensa prevista per gli informatori o per chi l'avesse trovata non sarebbe aumentata vertiginosamente. Una cifra congrua per Karen ammontava a 50.000 sterline. A quel punto bisognava portare Shannon in un luogo pubblico assicurandosi che fosse lì presente una telecamera a circuito chiuso. La telecamera doveva infatti immortalare Michael mentre recuperava la bambina. Consegnandola alla polizia l'uomo avrebbe ottenuto la ricompensa di 50.000 sterline che poi lui e Karen si sarebbero spartiti. Sembra che all'inizio Karen non volesse scegliere Shannon come vittima del suo avido piano bensì uno dei fratellini ma alla fine aveva cambiato idea perché il rapimento di una femmina le avrebbe fruttato più soldi. Dopo questa scoperta tutti i media cominciano a riferirsi a Karen come la peggior mamma del Regno Unito. Tuttavia lei si dichiara non colpevole quindi va a processo dove emergono dettagli ancora più scioccanti. Vengono rivelate le condizioni in cui Shannon era stata durante la sua prigionia le quali sono assolutamente orribili. Le erano state imposte delle rigide regole da rispettare non poteva fare rumore come sbattendo i piedi per terra né avvicinarsi alle finestre né fare qualsiasi altra cosa quando Michael non era presente. Poteva tenere la tv accesa ma a basso volume. Il sequestratore le aveva consentito di giocare ad alcuni videogame come Super Mario di guardare qualche DVD o di ascoltare dei cd. Queste istruzioni erano state scritte su un foglio e alla fine della lista di vieti o autorizzazione si legge I.P.U. Con questi iniziali che stanno per I promise you Karen aveva sempre sintetizzato una minaccia rivolta a sua figlia cioè ti prometto che accadrà qualcosa di brutto se non fai quello che ti è stato detto. Intimorita Shannon aveva rispettato queste regole nessuno doveva sapere che lei si trovava in quell'appartamento. Tuttavia l'inquilino che abita al piano sotto quello di Michael aveva avvertito dei piccoli passi un paio di volte ma niente di più. Cosa ancora più spietata quando Michael non era in casa prima di andare via legava Shannon per limitarne i movimenti. Il sequestratore ha ricreato una specie di guinzaglio con un lungo cinturino elastico che pendeva dal soffitto e che permetteva alla bambina di spostarsi tra la camera da letto e il bagno. La polizia ha trovato anche un collare per cani e una catena nella stanza in cui Shannon era stata individuata. Inoltre alla piccola veniva somministrato un farmaco per l'insonnia col fine di mantenerla sedata e compiacente durante la prigionia. Emerge però che Shannon era stata costretta ad assumere questo medicinale fin da prima del rapimento infatti la madre glielo faceva prendere già da ben due anni. Questo per renderla più obbediente in casa. Le condizioni in cui Shannon è stata ritrovata nell'abitazione di Michael sono orrende ma la piccola spiega che erano comunque migliori rispetto a quelle della propria dimora condivisa con la madre. Quando la polizia aveva perquisito l'appartamento del sequestro aveva trovato delle lettere scritte a mano dalla bambina indirizzate al fratellino. Gli comunicava così che sentiva tanto la sua mancanza e che avrebbe voluto rivederlo presto. Sperava che Michael la portasse da lui almeno per fargli visita. Shannon aveva scritto diverse lettere simili a queste ma nemmeno una era destinata a sua mamma. Non mi sorprende il fatto che durante il processo Michael e Karen insistono nell'incolparsi a vicenda ognuno facendo la vittima. Siccome non si assumono le proprie responsabilità risalire alla verità non risulta affatto facile. Entrambi sono molto dispiaciuti sì ma per loro stessi. Karen continua a cambiare versione una volta dalla colpa a Michael attribuendo a lui l'idea successivamente sostiene che ci sono anche altre persone coinvolte nel piano non soltanto lei e Michael. Michael a sua discolpa afferma che stava seguendo gli ordini di Karen. Come detto la motivazione principale dietro questo crimine sono i soldi Karen bramava quella ricompensa da 50.000 sterline magari per concedersi una bella vacanza o per comprare altre cose per sé ma non solo ve l'ho già raccontato Karen desiderava che i media e tutta la comunità le dessero attenzioni. Si pensa anche che Karen abbia tratto ispirazione dal finto rapimento inscenato in un episodio della serie televisiva Shameless che tra l'altro sto guardando in questo periodo. Infatti anche in questa puntata si simula il sequestro di un bambino. L'episodio tra l'altro è andato in onda proprio appena prima del rapimento di Shannon Per questo è opinione di molti che Karen abbia visto la puntata e poi escogitato il piano e faccio un'osservazione escogitare un piano sulla base di una puntata di Shameless è una pessima idea ma davvero una pessima idea. Alla fine del processo il 23 gennaio 2009 Karen Matthews viene dichiarata colpevole di tutte le accuse e condannata a otto anni di prigione e viene anche ordinato fortunatamente perché ne ha bisogno di frequentare un corso dedicato a come comportarsi in qualità di genitori della durata di sei settimane anche Michael Donovan viene giudicato colpevole di tutte le accuse e condannato alla medesima pena otto anni di carcere infine Craig Meehan a causa delle immagini oscene trovate nel suo computer viene dichiarato colpevole e condannato a 20 settimane di prigione posso dire la mia trovo queste pene molto leggeri in proporzione ai reati commessi nel Regno Unito in alcuni gravi case di intralcio all'amministrazione della giustizia la pena massima applicabile è addirittura l'ergastolo quindi mi pare assurdo che Shannon sia stata condannata a soli otto anni di detenzione dopo il verdetto la madre sconsiderata cerca ancora di difendersi sostenendo la propria innocenza rilascia anche un'intervista al quotidiano Daily Mirror affermando che lei non è di certo la madre peggiore del Regno Unito come l'accusano di essere perché Shannon non è mica morta insiste nell'insinuare che nel rapimento c'erano altre persone coinvolte ma non vuole rivelare i loro nomi perché sostiene di essere troppo spaventata molte persone a dirla tutta a questo ci credono perché considerano Karen poco intelligente dunque ritengono impossibile che abbia elaborato il piano completamente da sola la mia sensazione invece mi porta a pensare che stia ancora mentendo in fondo il suo piano non sembra comunque concepito da una mente geniale presentava diverse falle converrete con me anche se c'è da dire che Karen è riuscita a ingannare tutti per quei 24 giorni la comunità in cui era inserita la polizia e i media c'era solo una manciata di persone che guardava Karen con sospetto la donna alla fine ha scontato solo 4 anni di carcere ed è stata rilasciata nell'aprile del 2012 Karen ancora oggi cerca attenzione infatti appare regolarmente sui giornali Shannon ovviamente è stata reinserita in un nuovo nucleo familiare le hanno cambiato identità e non ha mai più avuto contatti con la madre biologica grazie a dio Shannon oggi ha all'incirca 26 anni e spero stia bene non oso immaginare cosa significhi per lei vedere ancora sua madre alla ricerca spasmodica di attenzioni Karen continua a tirarla in ballo pur senza menzionarla e sono certa che a Shannon non faccia affatto piacere per di più Karen non si è mai scusate non ha mai mostrato alcun rimorso il mio ultimo pensiero in questo video va proprio a Shannon tutto quello che ha vissuto deve essere stato orribile mi ha spezzato il cuore a prendere che considerava le condizioni sperimentate nel suo mese di prigionia addirittura migliori di quelle in cui viveva quotidianamente in casa propria non possiamo conoscere nel dettaglio quanto abbia sofferto Shannon finché ha condiviso il tetto con sua madre ma inorridisce già che Karen abbia sempre anteposto l'interesse per il denaro a quello da dedicare ai propri figli nessuno l'aveva obbligata a diventare un genitore quindi perché maltrattare delle creature innocenti e indifese sangue del proprio sangue spero davvero che oggi Shannon stia bene e che abbia un futuro brillante davanti a sé e questo ci porta alla fine di questo video allora ragazzi questo caso mi ha colpito abbastanza devo dire la verità perché non l'avevo capito all'inizio che si trattava di un rapimento falso e quindi quando poi ho scoperto che la colpevole era sua madre ci sono rimasta molto male voi per caso conoscevate questo caso ne avevate già sentito parlare insomma fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti perché tengo molto a leggere la vostra opinione detto questo nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facete nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.